Secondo le statistiche di YouTube, solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale. Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora. Grazie! Grazie mille! I pedi più grandi sono delle ragazze. Sì, sì, in quattro anni e mezzo Giulia l'ho sentita due volte. È unica. Locato? Non ce l'ho, 3, 2, 1, boom. Locato quello là sotto, eh. Mamma, quanto è forte l'arma, ragazzi. Allora, Jack, allora, io ce l'ho due qua da me. Peccato che sia troppo tardi, altrimenti vi avrei raccontato anche di quella volta in cui mi sono ubriacato in Croazia con Valerio e Roberto e in mezzo al bosco in Croazia abbiamo incontrato il Cippe, l'amico di Dario Mauro. Oh, il Cippe lo adoro! In mezzo al bosco in Croazia? Esatto. È esponato lì. È un po' simpatico il Cippe. Lo so. È simpaticico. È utile farsi là con il suo app? Secondo me sì, secondo me sì. Vediamo, vediamo. 0.25. MESSI! 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 No ma il francese gioca in Francia Iniziamo va Inizia a caricare sta bomba Immagino che bomba è medita Tiè 80 80 81 vai Smuda 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 A mostro Varanne Varanne E' un altro Charizard E' un altro Charizard E' un altro Charizard E' un altro E' un altro Charizard Porca Dio Non ci posso credere Non ci posso credere E' un altro Charizard I gemelli I gemelli I gemelli I gemelli I gemelli Oddio Oddio i gemelli Oddio i gemelli Cosa ne pensiate Non clipate neanche questo Per il cento Henry grazie per il sabbetto Benvenuto Se avete Amazon Prime Se avete Amazon Prime Un disclamativo sito Prime Per collegare il vostro account Amazon a Twitch Farei la subgratis a questo cavale di merda Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì aspetta aspetta sentiamoci su discord ti prego se parla così per il resto della vita io impazzito eccoci c'ho fatica oh kirio te che sei vecchio mi racconti un po' la tua sbogna più la tua sbogna più letale lascio andare per Marco e non andare altri cicli ti aspettavo posta tutto per farlo di rigarare chi esce? aho? aho? ma che cazzo ho visto? ma che cazzo ho appena visto? ma cosa sto vedendo? ma come quelli po' ma maestro una farò è un mio comprensato no? 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 mi hanno prenduto senza permesso ragazzi su di dire la e mentre dormi ho detto basta vai 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 forza chiamone basta basta hai rotto il cazzo hai capito? hai rotto il cazzo hai rotto il cazzo hai rotto il cazzo mi ha dato chiamone la foto hai fatto? hai fatto? vieni qua ritornato il cazzo maestro No, non pure, va bene, va già cazziamo, va già fa, ti ho detto basta, ci schiava, io ci metto le mani addosso Quello non è consolo A venire nel canale del Dado e dire che giovedì non mi sono impegnato Oddio mi gira la testa, oddio mi gira la testa, zi mi gira la testa Oddio Mi ha girato la testa, zi Ho trovato un'icona che si chiama Prinsipo e 99, vabbè è normale No, no che cazzo, ci stanno pure l'icona, magari esci e 99 E ora esci per le prime moments Oddio Ma io non pensavo fosse una partita del genere Il problema è che sono andato a vedere la formazione del Torino Giocavo tutti i panchinali, porco schifo, porco Che ne sapevo che facevamo Oddio Dimmi che è lui Oddio Era mezza Twitch Italia quel giorno No, per forza, per forza Raga, io ero totalmente a caso Stavo con T.S. con gli altri Gli butti il link delle hot tub streamer Quello fa mazza e buona Così, soprattutto io passo il link Era sto ragazzo, romano, dentro la piscinetta Che faceva i... No, merda Il cheater Il cheater Così 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 ragazzi Sorpreso pure lui Uno, due, due, tre Oh perbacco E questo cambia tutto I love EA Forever in my heart EA Best company in the world EA Oddio, mi raccomando Shoppate su questo gioco Perché si trova di tutto e di più Allora Mod, mi risalite al ragazzo Che ha detto Cosa era? Uno come Oblac Alexa, accendi pioggia Perché? Scusa 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...